Verrà illustrata la LIM come strumento tecnologico, infatti vedremo in cosa consiste la tecnologia LIM e qual è la sua potenzialità nell'uso. Nel contesto della tecnologia LIM le domande a cui saranno date delle risposte sono che cos'è la LIM e come funziona, quali tipologie di LIM ci sono, il setting e gli accessori connessi alla LIM e il software di gestione di cui ogni lavagna è dotato. Riguardo poi alle potenzialità della LIM saranno messi in evidenza quali vantaggi essa offre e cioè l'opportunità innovativa nella didattica, l'interattività, l'aggregazione di risorse multimediali, la costruzione collaborativa e poi la ciliegina sulla torta, l'impiego del web. Poi, se consideriamo i vantaggi apportati per gli studenti, possiamo rilevare l'attenzione, la motivazione, il coinvolgimento, la relazione con i docenti che acquista un'altra valenza e la partecipazione attiva del gruppo classe. Per i docenti, invece, il cambiamento è dal punto di vista didattico. L'esposizione attraverso la multimedialità si presenta più efficace, si creano ambienti di apprendimento in divenire e in continuo sviluppo. La LIM, quindi la lavagna interattiva multimediale, è un dispositivo elettronico avente le dimensioni di una tradizionale lavagna didattica, sul quale è possibile lavorare usando sia pennarelli oppure anche il touchscreen. La prima lavagna interattiva multimediale risale al 1981. Tipicamente la LIM è collegata ad un personal computer, del quale riproduce lo schermo. permette quindi di mantenere il classico paradigma didattico centrato proprio sulla lavagna estendendolo con l'integrazione di multimedia, l'accesso ad internet e la possibilità di usare il software didattico in maniera condivisa. Sulla base della tecnologia usata per interagire con il computer descriveremo quali sono le tipologie delle lavagne interattive multimediali, i vantaggi e le caratteristiche che in questi ultimi anni ne hanno permesso una rapida diffusione. E poi ci soffermeremo sui contributi che questo strumento può dare alla didattica, indipendentemente dall'hardware e dal software che ne permettono l'adozione. La lavagna interattiva multimediale è una lavagna che trasforma il computer e il proiettore in strumenti per la didattica e la cooperazione in classe. La lavagna digitale, la lavagna interattiva, è uno schermo sensibile al tocco, sia che sia la mano o sia che sia il pennarello, collegata a un qualsiasi computer e funziona in modo molto semplice. Grazie poi al software autore possiamo anche scrivere, cancellare, disegnare figure, inserire file digitali, fare collegamenti interni a file presenti sul pc su cui si opera e addirittura poi anche andare in rete. Quindi la lavagna interattiva multimediale, nella sua potenzialità, è uno strumento rassicurante e innovativo nello stesso tempo che permette al docente di utilizzare in modo sinergico strumenti e media diversi per potenziare la lezione e coinvolgere i ragazzi attraverso differenti stili cognitivi e di apprendimento. Numerosi studi del mondo anglosassone, infatti, hanno evidenziato alcune principali potenzialità di questo strumento. I vantaggi riguardano soprattutto la visualizzazione in grande, l'utilizzo delle tecnologie a favore di tutta la classe, la semplificazione dei concetti, l'interattività, l'aggregazione di risorse multimediali. Inoltre, c'è da considerare anche il favore degli studenti, l'estrema semplicità di impiego e la costruzione collaborativa del percorso di studio. La visualizzazione in grande, poi, è la più riconosciuta tra le potenzialità della LIM. Essa permette di presentare una molteplicità di contenuti, utilizzando non più solo l'ascolto o la lettura individuale, ma anche la forza comunicativa dell'immagine, del suono e del video. L'utilizzo della tecnologia LIM a favore di tutta la classe è una delle opportunità più innovative, perché permette di emanciparsi dall'impiego individuale delle tecnologie a favore verso una dimensione più relazionale, data dall'essere uno strumento a disposizione di tutta la classe. L'interattività è data da molteplici livelli. Riguarda sia la possibilità di intervenire personalizzandoli su tutti i fali presenti sullo schermo, sia la possibilità anche fisica di agire sulla lavagna, e sia, infine, in presenza di collegamento al web, la possibilità di accedere dalla classe alle risorse di internet. Quindi, l'aggregazione di questi molteplici risorse multimediale permette, pertanto, di costruire, quindi, percorsi di insegnamento e apprendimento che sfruttano i nuovi media in qualsiasi dimensione, in qualsiasi prospettiva, come ho detto poc'anzi, partendo dall'immagine statica per poi continuare con l'audio e il video. Gli studenti avvertono la LIM vicina al loro modo di comunicare e di accedere alle informazioni. L'estrema semplicità di utilizzo è all'origine della diffusione delle LIM e le competenze necessarie per il suo impiego sono quelle di base, la scrittura, l'apertura di inserimento di file, il prelevamento di download, l'uso del web, e in particolare la costruzione collaborativa dei percorsi di studio, fanno della LIM uno strumento particolarmente efficace per la realizzazione di attività di gruppo in classe, specie nel campo dell'integrazione. E l'impiego del web per la condivisione del materiale e la comunicazione a distanza, inoltre, rende la LIM utilizzata anche in contesti di scuola dove troviamo situazioni difficili, tipo per esempio le scuole in ospedale. Adesso vediamo l'altra faccia della medaglia dal punto di vista tecnologico della LIM, quindi il setting, e come la lavagna digitale deve essere posizionata negli spazi della scuola. Quando arriva la lavagna in digitale in classe, il primo problema è la posizione che questa deve occupare. E questo è un problema di notevole importanza. La lavagna digitale contiene i due volti, quello del computer e quello della lavagna. La lavagna digitale non è un semplice schermo dove viene proiettato quanto si elabora al computer. Infatti, il mouse e la tastiera vengono sostituiti dalle dita o dal pennarello. L'approccio quindi è diverso. Il comportamento che viene usato è quello di avere a disposizione una lavagna con le potenzialità di un computer. In questo contesto, una riflessione molto semplice, ma abbastanza significativa, è Dove è corretto collocare la lavagna digitale? Allora, partiamo dal principio che la lavagna, quella di Ardesia, non può mancare in aula, in quanto è l'unico supporto per elaborare concetti scritti, visibili al gruppo classe. La stessissima cosa vale per quella digitale. La collocazione ottimale della limba in classe, secondo la combinazione del kit più diffusa che consiste nello schermo, il proiettore e il computer, dovrebbe prevedere in primo luogo l'installazione al muro della lavagna. Ad un'altezza sufficiente per permettere l'accesso di tutti gli studenti e il proiettore fissato al soffitto. Questo per non incorrere nel continuo riallineamento tra il proiettore e la superficie. Inoltre, si riduce anche il cono d'ombra dato dall'interposizione di chi scrive alla lavagna tra sorgente luminosa e superficie. Ancora, è bene studiare la posizione della limba con molta attenzione. Perché? Perché il sole che filtra dalle finestre non deve colpire la superficie della lavagna, poiché, anch'essa luminosa, diciamo, l'immagine che viene emessa dal proiettore risulterebbe molto sbiadita. Stavo dicendo che lo studente e il docente non devono, diciamo, mai dare le spalle alla platea della classe. Anzi, è preferibile guardarla mentre con il braccio manipolano gli oggetti visualizzati sulla lavagna. Pertanto, ai lati della limba è bene che ci sia spazio per potersi muovere comodamente. In sostanza, più la limba, il computer, il proiettore, hanno una stabilità fisica nell'aula e più sarà semplice e continuo l'utilizzo, evitando l'ingombro possibile delle attrezzature e dei cavi. Concludiamo dicendo che la sfida della limba considerata come costrutto tecnologico è proprio questa. Non farsi vedere per lasciarsi usare. Io ho finito.